La terza corsia dell'A14 non si interromperà più nelle Marche, ma arriverà anche in Abruzzo, lo ha detto la ministra alle infrastrutture Paola De Micheli, rispondendo durante il question time alla Camera a una sollecitazione del deputato abruzzese di Tagliaviva Camillo D'Alessandro. Il governatore Marco Marsilio rivendica di essere stato il primo a lanciare l'idea, adesso l'Abruzzo non può più aspettare, ha detto il presidente della Regione. Occorrerà ora superare le riserve di autostrade per l'Italia, secondo cui la terza corsia in Abruzzo non sarebbe necessaria. Ad ogni modo, trattandosi di un intervento straordinario, la realizzazione della terza corsia dovrebbe essere finanziata dalle casse pubbliche e potrebbe rappresentare la svolta per la viabilità lungo la dorsale adriatica. Intanto oggi un'altra giornata di code chilometriche di auto e tir lungo la SS16, a seguito della circolazione ridotta sull'autostrada. Domani però la situazione dovrebbe finalmente sbloccarsi, secondo il cronoprogramma di Aspi. Domani termineranno tutti i lavori di manutenzione e riprenderà la circolazione a due corsie su ognuno dei viadotti interessati. Chi abita tra Pineto e Città Sant'Angelo così tira un sospiro di sollievo, intravedendo la fine dell'insostenibile emergenza traffico che si protrae da dicembre 2019. L'auspicio è che possa sbloccarsi questa situazione che oramai da troppo tempo sta minando la tranquillità della vita che contraddistingueva Città Sant'Angelo, soprattutto nella zona Valle dove è una zona altamente urbanizzata e vi è un asseviario unico della Stadale 16 che oggi viene oberata dal passaggio dei mezzi pesanti che realmente minano la vivibilità della nostra comunità. Abbiamo sofferto, siamo stati collaborativi e anche pazienti, ma oggi dobbiamo trovare una soluzione affinché queste cose non si prolunghino perché realmente la situazione è divenuta invivibile. E adesso avete intenzione di chiedere i danni? In questo momento non credo che vi siano le condizioni per poterlo fare, ma se si dovesse ripresentare la situazione stessa siamo pronti a scendere insieme ai cittadini per chiedere i danni a chi è responsabile di tutto questo.